Soddisfazione in Valchiavenna per la sospirata assegnazione della tappa del Giro d'Italia, la penultima della Corsa Rosa di quest'anno che il 29 maggio porterà i corridori da Verbania a Motta di Campodolcino, scalando lo Spluga dal versante svizzero. Un appuntamento importante che potrebbe lanciare definitivamente l'intera Valchiavenna nel mondo della bike, proprio grazie alla notorietà del passo, rimarca il Consorzio di Promozione Turistica mandamentale. Stiamo lavorando da anni per affermare anche a livello mediatico il brand Passo Spluga nel mondo del cicloturismo, afferma il direttore Filippo Pighetti. Il Giro d'Italia è la punta di diamante di un progetto iniziato anni fa. Tra le altre iniziative la richiesta di chiusura della strada nel tratto Campodolcino-Pianazzo con Spluga da Capogiro nelle domeniche estive, grazie alla comunità montana e ai comuni di Madesimo e Campodolcino, evento che nel 2020 ha riscosso successo e consensi. Il Consorzio turistico della Valchiavenna insomma scommette sulle due ruote con tanti progetti, lezioni per i bambini, i bike sotto le stelle, escursioni in e-bike con la chiavennese MTB, nuovo gestore del centro sportivo di Campodolcino.